Buonasera a tutti, oggi affrontiamo il problema del momento di cubare in posizioni abbastanza semplici, posizioni di holding game che si avvicinano al termine della partita, quindi posizioni in cui è possibile calcolare le probabilità di vittoria in maniera abbastanza precisa e in particolare vediamo qua un caso in cui io sono in netto vantaggio col punteggio, quindi situazioni di two away, tipica situazione in cui spesso sbaglio, in questo caso two away eight away, spesso anziché ragionare freddamente calcolando probabilità di vittoria, take point e confrontando questi valori, spesso ritardo il cubo, non si sa bene perché. Ecco qua, è una partita giocata il mese scorso contro un avversario al circolo in cui ho mancato alcuni raddoppi e ho in una partita peraltro giocata bene, decisamente, e ho deciso di studiare il problema per cercare di evitare che si ripeta in fronte. Allora eccoci qua, questa posizione, ecco la prima prima cosa fondamentale che in realtà non faccio praticamente mai è quella di considerare a inizio game senza neanche aspettare il momento del possibile raddoppio, a inizio game quali sono i take point propri e dell'avversario. In questo caso, oltretutto io ho memorizzato questi take point per cui è solo giusto un piccolo sforzo di richiamare questi valori e di averli presenti durante lo svolgimento del game. in questo caso, il take point per il mio avversario è del 20%, per me è del 21%. Quindi in questo caso ci interessa soprattutto quello dell'avversario, 20%. Questo è importante perché, a seconda del punteggio, cambia molto il take point e quindi cambia anche la decisione di cubo corretto. Ad esempio, se il punteggio fosse 7 a 0, quindi 2 away, 9 away, il take point per il mio avversario sarebbe anziché il 20%, il 22%. Se invece il punteggio fosse 7 a 2, quindi 2 away, 7 away, il take point sarebbe del 23%. Quindi è assolutamente importante, ed è un discreto vantaggio, conoscere e tenere presenti, tenere ben presenti durante lo svolgimento del gioco, i take point a quel punteggio. Quindi abbiamo detto, in questo caso, take point del nero del mio avversario è il 20%, quindi più profondo del nord. Allora, cerchiamo di valutare le probabilità di vittorio. In questo caso abbiamo un vantaggio in corsa di 16 pip, vantaggio in corsa di 16 pip che, se non ci fosse contatto, corrisponderebbe a una percentuale di vittoria, una probabilità di vittoria intorno al 75 più 7, intorno all'82%. Qui che cosa possiamo sottrarre? Dobbiamo tener conto del fatto che abbiamo scusate, sto cercando di evidenziare ecco qua, quindi abbiamo queste pedine, quindi tre case da liberare. Tipicamente possiamo sottrarre un 2% per ogni casa da liberare. Quindi in questo caso eravamo arrivati all'82%, 182-83%, se sottraiamo 7%, scendiamo al 76-77%. che se andiamo a guardare io mi perdo sempre col mouse un attimo qua se andiamo a guardare che è decisamente vicino a quello che ci dà XG. Quindi tenendo conto che siamo in... il take point dell'avversario è intorno al 20%, siamo ancora abbastanza distanti e possiamo dire che la situazione è un no double, come in effetti ci conferma XG, vedete, no double take. Il double sarebbe un errore di quasi 100. se però il punteggio fosse diverso, quindi ad esempio fossimo 2-way, 7-way, quindi take point del 23%, sicuramente sarebbe un double e sarebbe un take molto borderline. quindi per questo è assolutamente importante tenere presente il il take point al punteggio e soprattutto è importante avercelo presente dall'inizio e non doverlo calcolare al momento. Ok, quindi abbiamo detto che in questo caso il double è premattito. Andiamo avanti 6-4 4-2 quindi adesso abbiamo guadagnato 4 tip in corsa per cui è indispensabile rifare la valutazione anche perché abbiamo visto che le probabilità erano intorno al 76-77% per cui già con 4 pip è una casa in meno da liberare possiamo possiamo dire con sufficiente certezza che siamo molto vicini come minimo a una situazione di double e probabilmente il take è borderline oppure potrebbe essere ok valutiamo quindi abbiamo 20 20 pip di vantaggio 20 pip di vantaggio che corrispondono senza contatto grosso modo all'87% di probabilità 87 quando abbiamo 100 pip qui abbiamo 84 quindi possiamo arrivare anche all'88-88% dobbiamo togliere però qua le come al solito io mi perdo col mouse quindi dobbiamo togliere le due case da liberare quindi eravamo all'89% andiamo all'85% poi vabbè qui potremmo togliere ancora qualcosa in realtà abbiamo questa questa casa dove mi è finito il mouse si è perso come al solito abbiamo questa casa che è vuota quindi questo gap che comunque va considerato quindi insomma eravamo arrivati all'85% se consideriamo il gap più qui siamo finiti qua sopra più questi due piloni che ugualmente non sono bellissimi possiamo diminuire di qualcosa ma comunque sicuramente rimaniamo sopra all'80% e quindi possiamo dire con ragionevole sicurezza che siamo in una situazione di double pass andiamo a vedere e vediamo infatti che XG ci conferma double pass e non cubare è un errore di 130 in un bel blunder io tranquillamente non ho no scusate sbagliato non cubare è un errore di 80 è comunque un pass netto quindi l'avversario dovrebbe passare quindi neanche dire vabbè no non cubo perché poi rischio no siamo di fronte a un pass abbastanza niente da fare non occupato quindi andiamo avanti 3 1 libero una casa 6 4 quindi adesso ci troviamo abbiamo perso in corsa ma abbiamo una sola casa da liberare quindi anche qui possiamo valutare vantaggio in corsa di 14 quindi stiamo parlando del 80% grossomato 80% più 2 82% togliamo il la casa qui da liberare quindi avevamo detto 82% scendiamo all'80% anche qui abbiamo i piloni va considerato che comunque il l'avversario ha terminato i tiri utili esterni e quindi dovrà abbandonare l'ancora o aumentare l'westige quindi anche questo va considerato per cui anche qui possiamo dire di essere sopra l'80% vedete che xg ci da l'81% quindi anche qua netta situazione di double pass quindi anche qui non cubare è un blunder da 85% e anche qua non ho qua occupato adesso in una situazione tutto sommato meno favorevole rispetto alle precedenti anche qui possiamo fare un conteggio rapido quindi vantaggio in corsa di 10 per cui siamo intorno al 75 più 2 3 78 per cento dobbiamo sempre togliere questa questa casa da liberare quindi scendiamo al 76 per cento ma c'è il problema per l'avversario di non poter tenere l'ancora e comunque deve prima di tirar fuori le pedine deve fare molta strada per cui in realtà le probabilità di vittoria sono maggiori del 76 per cento e ci avviciniamo all'ottanta ecco ragionevolmente potremmo essere sotto all'ottanta per cui double non è non è in discussione ma potrebbe essere anche un take e in effetti vedete che xg ci ci dà proprio double take quindi non cubare sarebbe un blunder anche qui da 154 e il l'avversario dovrebbe accettare anche se in realtà qui ho cubato e l'avversario ha passato ecco perché abbiamo visto questo abbiamo visto questo perché ho deciso finalmente di cercare di evitare il ripetersi di questi di questi error che si ripetono molto 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 spero alla prossima occasione di mettere a frutto quanto ho quanto ho ragionato e spero assimilato in occasione di questo di questo vi ringrazio per l'attenzione sono gradite osservazioni e commenti ci vediamo la prossima di questo vi ringrazio vi ringrazio